Ciao a tutti ragazzi, sono sempre me, ma le più bianca channel In questo video... Sì... Allora, ecco qua, questo va meglio In questo video praticamente annuncerò un concorso Allora, questo concorso consiste praticamente nel disegnare la mia versione pony Insieme, o la mia versione pony da sola O la mia versione pony insieme a quella di MLP Channel Katie Oppure la mia versione pony insieme alla vostra E mentre i vincitori, quello che vinceranno, guardatelo nella descrizione Per adesso vi farò vedere alcune immagini della mia versione pony Questa invece è la mia seconda Fuori è magnifico, si è matto un po' di più Se la bellezza a due passi è portata di manicure Ma so che quando troveranno il centro dell'universo Rimarrai delusa a scoprire che non sei tu Ognuno con i suoi pensieri, i suoi segreti Lo so Grazie a tutti